I nuovi equilibri della giunta regionale, il governatore Roberto Chiuto ridisegna la geografia politica del suo esecutivo, sintonia sempre più stretta tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, depotenziata la Lega. G7 Tajani incontra i sindaci del Regino, diplomazia utile per la crescita del territorio, il vicepremiere ministro degli esteri accompagnato dal governatore Occhiuto e Cannizzaro in conferenza plenaria. Rapporto spiagge 2024, coste minacciate da erosione ed eventi meteo estremi anche in Calabria ed impazza il farguesta delle concessioni balneari, legambiente salvaguardare le spiagge libere. Svolta sul duplice omicidio, scorza Edli, arrestato il 41enne Francesco Failace, in appello era stato condannato Francesco Adduci. I carabinieri stringono il cerchio sul presunto esecutore e sulla faida tra gruppi di indrangheta. Ben ritrovati in nuovo appuntamento con il Tg dell'altro Corriere TV, un rimescolamento delle deleghe e un ridisegno della geografia politica all'interno della giunta regionale. Il varo del nuovo esecutivo da parte del governatore Roberto Occhiuto palesa la sintonia sempre più stretta tra Forza Italia e Fratelli d'Italia e al contempo uno scollamento con la Lega. Vediamo. La cittadella Occhiuto conferma il peso numerico dei partiti alleati premiando il coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro con la nomina del vice prefetto di Leggio Maria Stefania Caracciolo, ritenuta molto vicina al parlamentare reggino e soprattutto mantenendo la promessa di una maggiore collegialità con Fratelli d'Italia che conquista la vicepresidenza con Filippo Pietro Paolo e soprattutto due deleghe di peso per Giovanni Calabrese al quale Occhiuto cede ambiente e turismo, segno di una particolare fiducia del presidente nei confronti dell'assessore meluniano già apprezzato sindaco di Locri. Ma il dato significativo sul piano politico è proprio l'alleggerimento da parte di Occhiuto delle deleghe che finora aveva trattenuto a sé. Il governatore di fatto si libera da diversi fardelli, non solo ambiente e turismo, ma anche i lavori pubblici assegnati alla Caracciolo con l'evidente intenzione di dedicare ancora più tempo ed energie al totem sanità. Se da una parte si assiste ad una sintonia sempre più stretta tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, c'è da registrare anche un raffreddamento dei rapporti con la Lega che in quanto a numeri non perde nulla ma perde in termini di peso. Al posto di Emma Stein entra Caterina Capponi per il carroccio che mantiene la delega del welfare ma perde il trasporto pubblico locale assegnato da Occhiuto al forzista Gianluca Gallo. E a proposito di chi della giunta regionale calabrese non fa più parte, ossia Giussi Princi, a poche ore dall'insediamento arriva un importante riconoscimento per l'eurodeputata calabrese di Forza Italia designata come presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Asia centrale. Ringrazio il capo delegazione Martuscello e tutto il PPE che ha sostenuto la mia nomina. Come ha detto, questa investitura rappresenterà un'importante occasione per rafforzare i rapporti tra l'Europa e i paesi dell'Asia centrale. E la due giorni del G7 del commercio a Villa San Giovanni si è chiusa con l'incontro del ministro degli esteri Antonio Tajani accompagnato dal governatore Occhiuto e dal forzista Cannizzaro con i sindaci della provincia regina. E' terminato con l'incontro con i sindaci della provincia di Reggio Calabria, il G7 del commercio a Villa San Giovanni al termine della conferenza stampa conclusiva in cui il ministro degli esteri Antonio Tajani ha illustrato i contenuti del documento firmato dai ministri di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Il vicepremiere e segretario di Forza Italia accompagnato dal presidente della regione Roberto Occhiuto e dal parlamentare azzurro Francesco Cannizzaro ha incontrato i primi cittadini per analizzare i risultati di un evento che ha messo in mostra davanti a tutto il mondo le potenzialità e le bellezze del territorio reggino. Dal porto di Gioia Tauro su cui il governo ha detto Tajani ha intenzione di investire al progetto del ponte sullo stretto. La due giorni in riva allo stretto ha portato i ministri anche a visitare il museo archeologico reggino. Con i bronzi di Riace ha detto Tajani abbiamo lasciato a bocca aperta i nostri ospiti. Erosione, eventi climatici estremi e cementificazione mettono a rischio le spiagge calabresi. A lanciare l'allarme legambiente presentando il rapporto spiagge 2024. Sentiamo. Le aree costiere sono una straordinaria risorsa ambientale, turistica e culturale ma sono sempre più minacciate da erosione, consumo di suolo ed eventi meteo estremi. Dati alla mano, secondo l'osservatorio Città-Clima di Lega Ambiente, dal 2010 a giugno 2024 è aumentato il numero degli eventi meteo estremi nei comuni costieri. Sono 104 gli eventi solo nell'ultimo anno. Il mezzogiorno è l'area più colpita della penisola, la Sicilia al primo posto con 170 eventi, quasi il 21% del totale nazionale, seguita da Puglia con 104, Calabria 82 e Campania 78. Nella nostra regione, tra i comuni con maggiori impatti ripetuti, soprattutto allagamenti da piogge intense, compaiono la Messia Terme con 13 eventi e il Reggio Calabria con 9. Non solo i fenomeni meteo estremi, le nostre spiagge devono fare i conti anche con una crescente erosione costiera che caratterizza le nostre coste e che necessita di un approccio integrato per mettere a sistema tutte le criticità. Su 613 chilometri di coste basse in Calabria, il 26,2% è in erosione, periodo 2006-2020. Le aree costiere calabresi stanno subendo in maniera sempre maggiore gli impatti e i danni provocati dalla cementificazione, molto spesso illegale. I dati del report, afferma Anna Parretta, presidente delle Cambiante Calabria, confermano la necessità di tutelare in maniera incisiva le nostre bellissime coste, salvaguardando le spiagge libere ed adottando modalità di gestione delle concessioni improntate al turismo sostenibile. E quindi la cronaca svolta sulla duplice omicidio scorza a Edli avvenuto nell'aprile 2022 a Castrovilla, riarrestato il 41enne Francesco Faillace per omicidio premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di arma da sparo con l'aggravante mafiosa. Alle 18 del 4 aprile del 2022 due sicari sparano contro Maurizio Scorza. La cinquantasettenne di Cassano all'Oionio e sua moglie, la trentottenne tunisina, Anene Hedli. Al termine del processo celebrato in corte d'assisi a Cosenza, l'unico imputato, l'allevatore Francesco Adduci, è stato condannato a 21 anni di reclusione. Nelle scorse ore, invece, i carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno arrestato Francesco Faillace, 41enne già detenuto a seguito dell'inchiesta Atena, perché avrebbe concordato con Francesco Adduci. Le modalità attraverso cui quest'ultimo avrebbe attratto le vittime nella propria masseria a Castrovillari, incontra da gambellone. In particolare, Scorza sarebbe stato contattato telefonicamente ed invitato a raggiungere l'allevatore, pronto a consegnargli un agnello. La trappola mortale, invece, si completa con l'arrivo sul posto a bordo di un'auto presa in prestito di Francesco Faillace, che poi avrebbe esploso contro la coppia diversi colpi di arma da fuoco, due all'indirizzo di Scorza e dodici all'indirizzo di Edli. Un'azione, quella compiuta dall'indagato, aggravata dal metodo mafioso. Chi indaga, infatti, sospetta una contrapposizione tra gruppi in guerra per il controllo del territorio nella Sibaritide. Faillace avrebbe agito, sempre secondo l'accusa, per agevolare la famiglia Forastefano, di Cassano allo Ionio. Ancora cronaca, due persone titolari di altrettante imprese Edili sono state arrestate e poste ai domiciliari della Guardia di Finanza Taurianova nel Regino, con l'accusa di aver messo in atto una truffa legata al bonus Facciate. I finanziari hanno anche sequestrato 1.600.000 euro, somma corrispondente all'importo della presunta truffa. Ai due arrestati vengono contestati i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e riciclaggio. I due, secondo l'accusa, avrebbero fittiziamente prodotto crediti di imposta relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio in realtà mai eseguiti, successivamente ceduti ad istituti di credito e ad altre società. L'accusa di riciclaggio riguarda in particolare il mancato pagamento di un controvalore nella gestione di crediti di imposta a tre società. Le società coinvolte nell'inchiesta sono state poste sotto sequestro ed affidate ad un amministratore giudiziario. Le sette persone sono state invece denunciate in stato di libertà dai carabinieri con l'accusa di aver abbandonato alcune carcasse di automobili e di camion su un terreno demaniale nelle vicinanze della fiumara Tuccio a Bagaladi, sempre in provincia di Reggio Calabria. Le denunce sono state presentate alla Procura della Repubblica Regina dai militari della stazione di Bagaladi che hanno effettuato i controlli assieme al personale del nucleo forestale di Medito Portosalvo e del nucleo parco di Bagaladi. Alle persone denunciate vengono contestati reati di abbandono di rifiuto e invasione di terreni. All'interno delle carcasse abbandonate i carabinieri hanno trovato vari generi di rifiuti. Nuovo presidio davanti all'ospedale annunziata di Cosenza. Tornano a protestare infatti le operatrici socio-sanitarie del reparto di ginecologia ed ostetricia. Tornano a protestare le operatrici socio-sanitarie del reparto di ginecologia e ostetricia dell'annunziata di Cosenza. Da tempo con il supporto del sindacato USB denunciano le condizioni di lavoro che continuano ad essere estremamente preoccupanti. Le richieste riguardano non solo un incremento della pianta organica con l'inserimento di nuovo personale ma soprattutto una corretta riorganizzazione e riassegnazione interna del personale esistente. Da mesi stiamo denunciando le gravi problematiche e le violazioni che avvengono nell'unità di ostetricia e ginecologia, in particolare per il personale socio-sanitario. Non sono stati fornite alla nostra organizzazione sindacale i numeri del personale inidoneo allo svolgimento di questa mansione che svolge mansioni altre ma che risulta ancora in pianta organica con il profilo di operatore socio-sanitario. C'è la questione annosa del blocco operatorio. Per la stessa gli ossi vengono assegnati durante le note operatorie programmate e soprattutto durante le emergenze allo svolgimento di mansioni anche improprie come l'utilizzo di elettro medicali. In più non è stata ancora divisa l'unità in reparti specifici e gli operatori socio-sanitari svolgono il loro servizio vagando per l'intero turno in tutta l'unità anche effettuando trasporti esterni di pazienti e materiale biologico divenendo così stressate e soprattutto non potendo svolgere in maniera coerente la propria professionalità quindi con particolare attenzione alla cura del paziente e al relativo ambiente di vita. È atteso un incontro in prefettura per discutere di queste problematiche. Per il momento ci fermiamo qui, vi ringrazio anche oggi per essere stati con noi, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro Tg, buon proseguimento sull'altro Corriere TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.